La presenza della nonna materna nella tua vita è come un filo invisibile che si intreccia nel tessuto della tua esistenza, influenzando il tuo percorso in modi sorprendenti e profondi. Sebbene possa sembrare un semplice rapporto familiare, la nonna materna rappresenta molto di più. È la custode di una ricca eredità di esperienze, valori e tradizioni che si trasmettono di generazione in generazione. Immagina di fare un viaggio nel passato, tornando alle radici della tua famiglia. Lì troverai la tua nonna materna, una figura che ha vissuto una vita piena di avventure, sfide e momenti di gioia. Ogni ruga sul suo viso racconta una storia, ogni linea della sua mano è un segno del cammino che ha percorso. È stata testimone di epoche di cambiamento, ha attraversato periodi di guerra e pace, ha conosciuto amori perduti e amicizie durature. La tua nonna materna è un ponte verso il passato, verso la tua stessa storia antica, una fonte di saggezza e una custode di tutti i segreti di famiglia. Ma il legame con la nonna materna non si limita al passato, si estende anche nel presente e nel futuro. Tua nonna materna è parte integrante della tua vita quotidiana, anche se potresti non rendertene conto. Le sue parole di saggezza risuonano nelle tue orecchie, le sue lezioni di vita ti guidano lungo il cammino. Anche se potrebbe non essere più fisicamente presente, il suo spirito continua a vivere attraverso di te, influenzando le tue decisioni, i tuoi valori e le tue azioni. Ma qual è il vero significato del legame con la nonna materna? Per comprendere appieno la sua importanza è necessario guardare oltre la superficie ed esplorare le radici più profonde del tuo albero genealogico. La nonna materna è il collegamento del passato con il presente, il ponte che unisce le generazioni passate e future. Attraverso di lei si trasmettono non solo i geni e le caratteristiche fisiche, ma anche le esperienze, le tradizioni e i valori che hanno plasmato tutta la tua famiglia nel corso del tempo. La nonna materna ha un'influenza diretta sulla tua identità e sul tuo destino. Le sue esperienze e le sue scelte hanno avuto, hanno e avranno un impatto profondo sulla tua vita, determinando il percorso che seguirai e le sfide che affronterai. Anche se potresti non rendertene conto, le sue decisioni hanno plasmato il tuo mondo fin dal momento della tua concezione, influenzando il tuo carattere, le tue aspirazioni e le tue relazioni. Ma il legame con la nonna materna va oltre la sfera individuale, ha un significato più ampio per la famiglia e la comunità. La nonna materna è il fulcro intorno al quale si radunano le generazioni, il punto di riferimento per le tradizioni familiari e le celebrazioni. Attraverso di lei si trasmette il patrimonio culturale e spirituale che lega la famiglia insieme, creando un senso di continuità e appartenenza che perdura nel tempo. Inoltre, la nonna materna rappresenta molto più di una semplice figura familiare, è la custode di una ricca eredità di esperienze, valori e tradizioni che si trasmettono di generazione in generazione. Il legame che lei ha o aveva con il passato e il presente influenza anche te, oggi, ed è determinante per la tua identità e il tuo destino, perché plasma, direttamente o indirettamente, il tuo percorso e influenza le tue scelte. Che tu lo riconosca o meno, il suo spirito vive attraverso di te, guidandoti lungo il cammino della vita. E tu? Hai ancora la nonna materna? Che esempio è o è stato per te? Faccelo sapere nei commenti. Speriamo che questo video ti sia piaciuto. Iscriviti al canale Dose Mentale per altri contenuti simili e ci vediamo nel prossimo video.